Amici e amiche della finestra sulla Sicilia, ben trovati! Sono in compagnia della nostra amica Vilma. Un saluto a tutti! Quest'oggi realizzeremo per voi in occasione del festino una ricetta del tutto golosa stiamo parlando del gelato di campagna detto anche giardinetto ma passiamo agli ingredienti un chilo di zucchero 150 grammi di mandorle sgusciate a piacere 100 grammi di pistacchi cannella in polvere e frutta candita coloranti vegetali quando basta 100 grammi di acqua ma passiamo al procedimento mettere in un tegame l'acqua e sciogliervi lo zucchero a caldo aggiungere le mandorle macinate sgusciate mescolando in continuazione chi lo preferisce unire i pistacchi la frutta candita tagliata a dadine ed un pizzico di cannella colorare con la polvere dei prodotti vegetali una volta formato su un composto quasi solido sistemare insieme in uno stampo che metteremo in fico per 12 ore bene amici ed amiche della finestra sulla sicilia spero che questa ricetta vi sia piaciuta questo è il risultato fateci sapere come andata se avete anche voi qualche formula originale inviatecela postatecela mandateci le foto al sito www.la finestra sulla sicilia.com oppure la pagina di facebook la finestra sulla sicilia il blog di tutti da michela e vilma buon festino a tutti ciao